amici carissimi benvenuti in questo mio canale in cui tratto di tutto un po ecco quello che correlato perlomeno alla mia vita sportiva artistica e professionale allora dunque vi invito con questo video che non è un tutorial ma è una semplice recensione che vi rimanda al mio canale ufficiale sempre su youtube dedicato al mondo dell'arte al mio canale artistico in altri termini bene mi trovo qui dietro casa mia in questo posto di ceduità cioè pieno di legno zeppo ho la fortuna di averlo a casa mia e lo sfrutterò per poter guardate quanta bella roba per poterne utilizzare le materie prime per fare i miei flauti nativo americani e le mie pirografie andatevi iscrivervi e sul mio canale disegna e crea con Alessio ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti